ore 15 lavori conclusi e la ferica ha trovata la via migliore quella l'armo in alto l'armo in alto e anche di qua armo in alto sopra la madonnina lontano così dai rovi perché i rovi sono qui invece sulla traiettoria della nostra corda non ci sono rovi l'armo in alto l'armo in alto l'armo in alto perfetto vediamo ok 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 qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.